Un giudizio sui primi mesi di lavoro della nuova giunta? Abbastanza deludente perché sui temi veri, quelli importanti, vedo che vengono schivati, non c'è coraggio, non c'è volontà di affrontarli, ma si continua questa logica della campagna elettorale, di ascolto, sì, ma anche di discussioni infinite. E sui temi veri invece non vengono aggrediti. Penso ad esempio al ripristino dei fondi per il sociale, doveva essere una delibera fatta all'inizio dell'estate, invece non è stato così. Oggi non se ne parla nemmeno più e c'è una carenza strutturale di servizio alla persona, soprattutto sulle fragilità nei territori, molto pesante. Critichiamo un sostanziale immobilismo in quella che è la sostanza. Parole, incontri se ne fanno molti, ma poi quando andiamo a guardare nei fatti vediamo poca carne al fuoco. Pongo la questione principalmente sul discorso del ripristino del fondo sociale. Questa è una priorità che il Presidente Ceriscioli ha espresso in più occasioni dal momento dell'insediamento, ha ribadito in vari incontri anche con l'approvazione di una mozione, bocciando quelle che l'opposizione aveva presentato, ma poi nei fatti vediamo dei provvedimenti che portano solo briciole residuali a un comparto così essenziale ed importante come quello del sociale. Sui 34 milioni di euro che dovevano essere ripristinati, anche se in parte fondamentale, vediamo che saranno al massimo 3-4 milioni quelli che attualmente, fra quello che era stato destinato dalla Giunta Spacca a quello che verrà poi domani nel Consiglio regionale, un milione e mezzo, certamente sono risorse che non sono sufficienti a dare risposte ai cittadini. Abbiamo visto che ha deliberato 284 delibere che non contengono nessun provvedimento di cambiamento in questa regione Marche, nonostante che il Presidente ha fatto la campagna elettorale su questo slogan, le 284 delibere sono soltanto degli atti amministrativi interni alla Giunta, al provvedimento che dovevano prendere per mandare avanti la macchina burocratica di questo ente, cioè dell'ente della regione Marche. Perciò Ceregioli non ha mantenuto le promesse, non sta mantenendo le promesse né sulla sanità, né sul credito e né sul lavoro, dove sono i capisaldi veri di un reale cambiamento di questa realtà marchigiana. Un bilancio dei primi tre mesi di questa giunta regionale, quali sono le principali critiche che muove Forza Italia? Guardi, l'aumento della tassazione, noi l'abbiamo già detto in Consiglio regionale, perché è stata reintrodotta la tassa di bonifica che era stata abolita 14 anni fa sul ricorso di alcuni cittadini, ma soprattutto degli imprenditori agricoli, ora va a penalizzare proprio in modo particolare il settore agricolo. Ed inoltre l'aumento delle tariffe del trasporto pubblico, consideriamo un aumento del 10% circa in tutte le province. Noi siamo usciti sulla stampa proprio la scorsa settimana, dicendo proprio che affermo, per esempio, ogni famiglia vedrà un aumento di 50 euro, appesa allo 60. Quindi questo è quello che abbiamo notato noi nei primi 100 giorni.